Musica Ben ritrovati, buongiorno oggi mercoledì 11 novembre 2015, quando meno te lo aspetti, ecco il colpo di scena. Maurizio Zamparini e il Palermo, sono Beppe Iecchini, il nuovo allenatore Rosa Nero e Davide Ballardini. Un colpo di scena veramente strano, quello che è nato praticamente nella giornata di ieri con il comunicato ufficiale alle 9.39, ovviamente una scelta che era già maturata nella giornata di lunedì. Non è bastato dunque a Zamparini e a Beppe Iecchini soprattutto battere il Chievo Verona domenica pomeriggio all'Erenzo Barbera, perché alla fine poi in un colloquio telefonico avvenuto nella giornata di lunedì la situazione tra i due è precipitata e alla fine ha portato Zamparini all'esonero del tecnico marchigiano e a fidare la panchina a Davide Ballardini. Di questo e di tanto altro ovviamente si parla all'interno dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dalla Gazzetta dello Sport, guardiamo la prima pagina del quotidiano milanese. C'è spazio ovviamente per il Palermo ma non solo perché si cambia in casa a Rosanero con Zamparini che licenzia Iecchini. Gioco da Serie B è dichiarato il patron del Palermo che ascolteremo più avanti nell'intervista rilasciata ieri e durante la conferenza stampa di presentazione di Ballardini. Tocca dunque proprio a Ballardini. Ma il Palermo non è l'unica squadra a cambiare perché nella giornata di ieri è arrivato anche l'ufficialità dell'esonero di Walter Zenga. E' uno dei candidati per sostituirlo sulla panchina della Sampdoria è proprio Vincenzo Montella che riapre la giostra. Grandi allenatori e grandi manovre. La Fiorentina fa muro dopo l'incontro di ieri sera tra il presidente Cognigni e Ferrero, quello della Sampdoria. Se Vincenzo non andrà alla Sampdoria e dunque si scalda del neri potrebbe entrare in concorrenza con Conte per il futuro di Milan e Juventus. Ancelotti invece verso il Bayern Monaco o la Premier. Allegri invece sulla via dell'Inghilterra. Pirlo torna in Italia e il calcio si spacca. Conte e Mancini sono a favore. Marotta e Galliani invece frenano intanto Andrea. Su Instagram twitta uno stop alle voci. Questo è il commento sul futuro di Andrea Pirlo da parte del Corriere della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport invece ne dicola oggi l'edizione Sicilia e Calabria. C'è spazio ovviamente anche per il Palermo. La notizia del giorno insomma che ha scosso un po' tutti quanti. A Palermo c'è Ballardini ma la squadra si ribella. I giocatori sono tutti goiacchini. Il titolo alto del quotidiano romano che invece apre con la Juventus sulla Vezzi. Contatto con il Paris Saint Germain per l'esterno argentino svincolato a Giugno. E poi tante altre idee di mercato per le società italiane. Con la Juventus che si aspetta con la Fiorentina che si aspetta un colpo per volare. Balanta o Lisandro o Lopez per la difesa. Idea a Van Der Wille ma Pirlo si allontana invece con l'Inter. La Roma invece pensa a Juan Jesus e assalte i giovani Gerson, Alisson e Diaz. La Roma, il Napoli pensa a Rugani della Juventus per la difesa. L'alternativa invece è Barba. Poi il Milan invece punta Vizzele per il centrocampo e Luiz Adriano intanto sbuffa. Mentre la Lazio punta su Douglas. C'è un'ipotesi di Tonelli dell'Empoli. Donnarumma invece ha un sogno imitare Buffon intervistato direttamente dal ritiro della nazionale Under 21. E poi ovviamente spazio anche alla nazionale italiana che scenderà in campo contro il Belgio in questo fine settimana. Spazio anche ovviamente al Palermo, a Giacchini, al Esonerato e Ballardini che è arrivato dalle colonne del giornale di Sicilia. Come possiamo direttamente vedere spazio centrale per Giacchini e Soneroshock. Ballardini torna a Rosanero. Decisione a sorpresa di Maurizio Zamperini. Non c'era più dialogo e la squadra giocava male. Vasquez e Maresca invece si schierano con l'ex tecnico e il patron Li e Bacchetta. Allora possiamo andare ad ascoltarlo il presidente Zamparini che è intervenuto in conferenza stampa, è intervenuto via Skype alla conferenza stampa di presentazione di Davide Ballardini. Tanti buoni propositi per il futuro. Lasciare a casa dopo una meditazione di tre giorni un amico come Giacchini è ancora un trauma che devo digerire. Non è una decisione facile. Ritengo il mio dovere prendere nelle decisioni da presidente e da imprenditore nell'interesse del Palermo Calcio come ho sempre fatto, sia nelle cose buone che negli errori. e il mio giudizio e la mia decisione è stata lunga, condenata, supportata da tanti consulenti a cui ho chiesto com'era il Palermo in questo momento. È una situazione interna del Palermo che mi preoccupava moltissimo perché la zona retrocessione, pur con la partita vinta domenica, è a tre punti. Mi dispiace tantissimo per Giacchini che farà sicuramente bene. Io quest'anno non ero in sintonia, la società non era in sintonia con lui, ma ancora quel giorno che alla fine del mercato fece quella uscita sui media dove diceva lui che non era assolutamente contento della campagna del Palermo che il Palermo era una squadra scarsa e avere un allenatore che non crede nella propria squadra non è consono alle mie abitudini. Io considero il Palermo non una squadra scarsa, non una squadra top tant'è che a gennaio interverrò sul mercato per prendere altri tre elementi, quattro, di qualità superiore per migliorarla ma ritengo una squadra a livello del Genoa, della Sampdoria. La scelta per il nuovo allenatore è stata meditata da tempo. Da tempo chiedevo a Guidolin se lui era interessato a ritornare a Palermo perché conosceva benissimo la piazza. Io ho scelto l'allenatore che ritengo più utile e che conosce la piazza e che ha fatto benissimo a Palermo quando è venuto e che è il nostro allenatore che vi presento stasera. Io ho parlato con quelli che ritengo importanti per me tra i quali il principale è il capitano e ho ricevuto l'assenso alla piena collaborazione. È chiaro che un giocatore come Maresca possa aver rilassato con le dichiarazioni ho parlato adesso con il suo pastorello prenderemo dei provvedimenti perché ha scritto delle soluzioni. Iachini non mi ha procurato 60 milioni ho comprato io Di Bala prima di Iachini Vasquez prima di Iachini sono un giocatore che ho comprato io con i soldi della società Iachini aveva una Serie B con un budget stipendi di 40 milioni e il Carpi è andato in Serie A con un budget stipendi di 6 milioni in Serie B. Questa è la differenza enorme. Punto. Queste erano dunque le parole del Presidente Zamparini che in conferenza stampa ha presentato Davide Ballardini tanti temi toccati dal Presidente del Palermo nell'estratto che abbiamo appena ascoltato ovviamente si è parlato anche dei calciatori con i quali ha parlato Zamparini prima di ponderare la scelta dell'esonero e giocatori che insomma nella giornata di ieri come possiamo vedere dalla pagina della Gazzetta dello Sport l'articolo a firma di Fabrizio Vitale non sono completamente d'accordo con il patron rosa nero Zamparini scarica Iachini ma i giocatori urlano è sbagliato il Presidente gioco da retrocessione tocca a Ballardini a Palermo già nelle 2008 Varesca Sorrentino e Vasquez però sono dalla parte dell'ex tecnico possiamo leggere poi nello specifico quelli che sono i virgolettati dei calciatori delle Palermo Vasquez su Twitter ha dichiarato mi dispiace tanto però il calcio è questo pieno di enormi ingiustizie devo solo ringraziare Iachini e il suo staff per tutto quello che hanno fatto per me e per il Palermo e sulla stessa lunghezza d'onda anche Enzo Maresca insieme dal gennaio 2014 abbiamo stravinto il campionato di B battendo tutti i record possibili abbiamo fatto quasi 50 punti al primo campionato in A e ne avremmo fatti altri 50 in questa stagione oltre ad aver portato nelle casse del club più di 60 milioni di euro non sei tu a dirlo nemmeno io e la realtà che tutti sanno è stato un piacere Leone sull'esonero di Iachini e c'è stato il commento anche del capitano Stefano Sorrentino ricorda Beppe ciò che non ti uccide ti fortifica grazie per i traguardi raggiunti insieme abbracci virtuali anche da Morganella Rigoni e Lazaro e dunque spogliatoio che non ha preso benissimo l'esonero di Beppe Iachini al quale era molto legato le immagini dopo la partita di domenica contro il Chievo insomma lo testimone un abbraccio decisamente importante per l'allenatore o ormai ex allenatore del Palermo che lascia il posto però a Davide Ballardini allora che cosa prevede adesso il Palermo per il futuro con Ballardini in panchina prova di ipotizzarlo la gazzetta dello sport nella pagina regionale possiamo vedere insomma l'arrivo di Ballardini atto secondo difesa a 4 e più peso davanti nel 2008-2009 sostituì Colantono alla seconda e chiuse a 57 punti ecco le immagini insomma le fotografie più belle del Ballardini che nel 2008-2009 raggiunse dunque risultati ottimi l'ottavo posto con il Palermo in classifica nella seconda immagine vediamo insomma l'abbraccio con l'ex capitano Fabrizio Micconi nella terza Fabio Simplicio sua in menzione quando lo schierò da tre quartista non da regista il Palermo giocherà con la difesa a 4 nasce Sacchiano scrive Aldo Cangemi dalle pagine della gazzetta dello sport ma raramente ha optato per il 4-4-2 spesso ha giocato con la difesa a 3 forse la preferita d'altro no nel 2001 prese il patentino di allenatore di prima categoria a Coverciano con la tesi la didattica della difesa a 3 questo poi insomma chiude Aldo Cangemi con un quesito se Zamparini è a conoscenza o meno di questo curioso retroscena io sto con Iachini e l'hashtag invece lanciato nella giornata di ieri sui social network dei tifosi contro Zamparini c'è insomma una città che decisamente non è soddisfatta dell'esonero del ormai ex allenatore delle Palermo un errore cacciarlo Zamparini vai via Beppe tornerà prima di Natale questo è uno dei commenti che si sono letti nella giornata di ieri la gazetta dello sport ha analizzato sì ma non solo ovviamente il cambio tecnico in panchina in casa Palermo lo ha fatto anche il Corriere dello Sport allora andiamo a vedere quella che è la pagina interna del quotidiano romano con Zamparini che cambia il Palermo a Ballardini il cacciare Iachini è stato un tramite ma ma devo tutelare il club lo abbiamo ascoltato il presidente Zamparini tutti gli allenatori di Zamparini sono 45 gli allenatori tra Venezia e Palermo 36 cambi in corso di stagione 20 soltanto a Palermo la durata dei tecnici ovviamente Iachini con 775 giorni consecutivi decisamente in vetta a questa speciale classifica guidata in generale dai giorni totali invece di Francesco Guidolini che sulla panchina rosa nero nelle sue varie parentesi ha totalizzato fino ad ora 979 giorni poi ovviamente seguito da Iachini con 775 quindi uno speciale uno speciale record per Beppe Iachini che è stato quello che è durato di più come giorni consecutivi in assoluto invece in testa c'è Francesco Guidolini che però è tornato come dicevamo più di una volta sulla panchina del Palermo sulla destra invece c'è poi il retroscena la telefonata burrascosa e poi la rottura le dure critiche delle patronne la risposta piccata di Iachini il nuovo primato di Iachini il primo esonero arrivato in seguito ad una sconfitta in seguito ad una vittoria ovviamente il retroscena raccontato nel suo articolo da Paolo Vannini è un retroscena in cui viene appunto spiegato come ci sia stata una telefonata tra Maurizio Zamparini e Beppe Iachini nella giornata di lunedì pomeriggio poi invece la situazione è precipitata nella giornata di lunedì sera quando poco prima della mezzanotte il tecnico Marchigiano ha ricevuto il ben servito l'esonero e dunque poi con Davide Barlardini che ha preso il posto sulla panchina a Rosa Nero parlavamo poco fa del fatto che i calciatori del Palermo si sono schierati a favore di Beppe Iachini nella giornata di ieri ovviamente un articolo che viene ripreso una notizia che viene ripresa anche dal Corriere dello sport e vediamo come l'apertura si è dedicata a Franco Vasquez e al suo tweet immediato subito dopo l'esonero di Iachini il calcio è ingiusto ha tweetato il numero 20 rosa nero in questa fotografia con le mani tra i capelli la squadra si schiera con Iachini è sicuramente un dispiacere maresca fa i conti ha portato più di 60 milioni al club e Lazzaro invece è stata una grande persona il Franco Vasquez in particolare insomma ricordiamo è stato inventato nuovamente da Beppe Iachini in campo come trequartista nel momento in cui era pronto ad andare a Cipro praticamente aveva le valigie in mano perché in Serie B Vasquez era stato inserito o meglio non era stato inserito nelle liste da Rino Gattuso invece Iachini durante gli allenamenti settimanali ha visto delle qualità in Franco Vasquez e alla fine lo hanno fatto diventare uno dei pilastri di questo Palermo e probabilmente Vasquez andrà via nella prossima stagione con il Milan che è già alla finestra oggi intanto la ripresa degli allenamenti la squadra tornerà in campo nella giornata di oggi pomeriggio e allora abbiamo parlato di Davide Ballardini che dunque guiderà nella giornata di oggi il primo allenamento con la maglia del Palermo e ascoltiamolo quelli che invece sono i propositi di Ballardini per questa sua nuova avventura in Rosanero che i giocatori siano legati alla natura mi fa piacere perché sono degli uomini seri e hanno lottato per la maglia per la squadra insieme a proprio allenatore e quindi questo mi fa solo piacere poi l'altra l'altra cosa io la mia carriera sono subentrato mi pare in Serie A è un record mondiale su questo cos'è il nono è la nonna stagione io su nove stagioni sono subentrato otto volte e subentrato a volte anche non in prima battuta ma anche in seconda battuta quindi cosa vuole che le dica cioè io ho un record mondiale su dieci anni su nove anni di Serie A un anno dove ho iniziato c'erano diciotto giocatori fuori rosa forse lì era meglio non incominciare e mi riferisco alla Lazio il Presidente ha detto bene tutti gli altri anni sono sempre subentrato quindi quando subentri quando subentri hai pochissimo tempo quindi non hai due mesi la preparazione le amichevoli quando inizi magari puoi fare degli errori e in corso li correggi quando subentri il margine di errore è sempre è sempre minore prediligo i giocatori di qualità a centro campo anche con i terzini insomma mi piace avere tanti giocatori che hanno diciamo così quando hanno la palla hanno padronanza nella gestione della palla loro insieme ai propri compagni quindi questa è l'idea per me avere tanti giocatori e io credo che il Palermo ne abbia di giocatori interessanti avere tanti giocatori che quando hanno la palla sono bravi nella gestione insieme insieme ai propri compagni io e il mio gruppo di lavoro ci presenteremo domani ai giocatori loro impareranno a conoscere noi noi impareremo a conoscere loro siamo convinti di essere persone per bene serie competenti capaci abbiamo una gran voglia di lavorare quindi faremo diciamo così daremo loro tutto questo come siamo fatti le idee che abbiamo e il lavoro che vogliamo svolgere insieme a loro il mio nome è Anna Ware recitare mi permette di esplorare di cambiare sono attratta da quello che mi sorprende come quest'auto è un cambiamento totale nuova Hyundai Tucson change is good tu a 19.450 euro e con Hyundai iPlus a 290 euro al mese in tutti gli showroom Hyundai passa a team ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita negozi team spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di via Orsa Minore 123 e via Notar Bartolo 3 barra G Ampia scelta di occhiali da vista e da sole lenti a contatto e accessori Teleottica Carla venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità siamo a Cinisi in corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78 telefono 091 86 65 661 Teleottica Carla ci prendiamo cura del vostro sguardo Stop la convenienza è solo qui sconti del 50% per rinnovo esposizione alta qualità a basso prezzo finanziamenti a tasso zero fino a 30 mesi Gaspar e Mazzola a Redi via Papa Sergio XII a Palermo zona a Renella di fronte Villa Igea telefono 091 54 6621 Dynamic Sports Center a Palermo via Tommaso Aversa 145 abbonamento annuale 219 euro e una settimana di prove in omaggio kickboxing danze caraibiche functional training bodybuilding zumba total body pilates difesa personale Davide Barnardini dunque nuovo allenatore del Palermo buoni propositi per la prossima stagione chissà se troveranno spazio in campo calciatori giovani come Struna Iaiole Traikoschi questo è quello che si auspica il presidente Zamparini dalle pagine del giornale di Sicilia andiamo a vedere l'intervista specifica rilasciata a Salvatore Lo Iacono dal patron rosa nero con Iachini non c'era più dialogo in più la squadra gioca male l'allenatore duro con l'allenatore Zamparini duro con l'allenatore decisione dolorosa ma necessaria le sue dichiarazioni fuori luogo anche perché non erano accompagnate dai risultati nello specifico insomma un passaggio interessante su quello che è il pensiero di Zamparini su questa squadra la squadra non era completamente legata a Iachini forse aveva il sostegno di quelli che giocavano sempre e che invece ora dovranno guadagnarsi il posto domenica dopo domenica lo spogliatoio invece è piuttosto spaccato mi dispiace e mi stupisce come non trovino spazio ragazzi giovani come Struna Goldeniga Iaialo e Traikovsky questo è il pensiero del presidente Zamparini piuttosto curioso vedremo insomma poi come Ballardini deciderà di schierare in campo questi questi calciatori quale sarà invece quale è stata invece la scelta dei tifosi che si sono schierati ieri con Iachini di Zamparini ha parlato anche di questo ci sono tifosi che urlano e straparlano e ci sono anche quelli che magari stanno zitti e approvano il mio modo di agire io credo che Palermo continua a volermi bene quando andò via lo Monaco c'erano 30 o 40 tifosi fuori dai cancelli di Bocca e di Falca a protestare invece sui giornali il giorno dopo sembrava che tutta la città mi rivoltasse contro questo è il commento del presidente Zamparini che poi svela meno di quelli di cui si è scritto parlando degli allenatori contattati prima di Ballardini Guidoline mi ha detto no ma non di recente forse non ha più voglia di allenare o sogna un'esperienza all'estero invece il prossimo direttore sportivo delle Palermo tra le righe insomma sarà Rino Foschi mi piacerebbe averlo già con noi a gennaio ma è legato al Cesena non lo lasciano andare via in anticipo mi auguro che torni con noi nella prossima stagione questo il commento dunque del presidente Maurizio Zamparini e poi invece stupore e rabbia Iechini senza parole perché abbiamo parlato ovviamente di Zamparini abbiamo parlato di Ballardini ma Iechini come lo ha vissuto invece questo giorno questo ultimo giorno da allenatore del Palermo stupore e rabbia Iechini senza parole giornata all'alta tensione il tecnico si chiude nel silenzio per evitare nuove polemiche con Zamparini Beppe aveva anche pensato di replicare le tante accuse che gli sono piovute addosso dal padrone ma poi ha deciso di soprassedere nei prossimi giorni probabilmente dirà la sua anche per salutare i tifosi atteso nella giornata di oggi Beppe Iechini a Palermo ovviamente su stuponews.it come già nella giornata di ieri vi avevamo anticipato l'esonero di Iechini e l'arrivo di Davide Ballardini anche nella giornata di oggi potrete seguire poi quella che sarà la giornata attesa per oggi Beppe Iechini a Palermo quindi appena arriverà la conferma del suo arrivo ovviamente sarete aggiornati sul nostro portale Iechini che è dunque rimasto in silenzio nella giornata di ieri nella sua Ascoli abbracciato dalla sua famiglia col figlio Cheveni che insomma anche su Instagram ha dichiarato il suo affetto per il padre la mancanza insomma di coerenza nel mondo del calcio questo logicamente il concetto espresso da Kevin Iechini figlio dell'allenatore Rosa Nero Iechini che insomma ha ricevuto una chiamata da Zamparini nella serata di lunedì ha ricevuto dunque l'esonero 489 i numeri poi insomma indicati dal giornale di Sicilia relativi alla gestione di Beppe Iechini al Palermo contava di festeggiare fra qualche mese la 500esima da allenatore tra i professionisti dovrà aspettare a lungo Iechini resta a quota 485 gare con 195 vittorie e 151 sconfitte la striscia la striscia la striscia di Panchini invece si è fermata alla numero 88 con il Palermo contro il giallo-blu di Marana ha ottenuto la quarantesima vittoria dunque molto importante lo scorro di Iechini con il Palermo il terzo esonero per lui in carriera il primo di sala 2008-2009 quando con il Chievo lo congetò proprio nella sconfitta con il Rosanero il successivo sempre nel massimo campionato fu ad opera del Brescia nel 2009-2010 il club Lombardo lo richiamò ma la situazione era compromessa e Iechini non riuscì ad evitare la prima delle sue due retrocessioni tra i cadetti dunque Beppe Iechini che è atteso nella giornata di oggi in città e che ovviamente adesso non è più l'allenatore del Palermo spazio anche alla reazione dei VIP dalle colonne del giornale di Sicilia perché ovviamente c'è il menu del calcio sì ma non solo perché ci sono tanti tifosi del Palermo tra i VIP e tra questi ovviamente anche il presidente del Senato Grasso che dichiara mi fido ancora di Zamparini e questo il commento di Pietro Grasso presidente del Senato dalle colonne del giornale di Sicilia mi fido delle scelte del presidente Zamparini e sono erano un allenatore l'indomani di una vittoria segno di valutazioni tecniche che vanno al di là del risultato contingente che sono finalizzate agli interessi della società e dei tifosi e della città di Palermo in generale parla anche Totoschi Lacci Zamparini e così è imprevedibile evidentemente non gli sarà piaciuta la prestazione contro il Chiamo diciamoci la verità è stata una partita vinta di fortuna dato che i veronesi potevano chiudere il primo tempo sul 3-0 non è un problema comunque di allenatore la squadra è quella che è Vasquez e poi il nulla questo insomma il commento poi anche Pino Caruso e Sassosalvaggio si sono espressi l'abbraccio del gruppo all'allenatore dopo la vittoria di domenica con la reazione sui social di Vasquez dimostrano che la squadra comunque era con Iachini e questo uno dei commenti tifosi perplessi abbiamo gli stessi punti di un anno fa ma senza Di Bala e Mugno su un esonero senza senso però era soltanto questione di tempo ma qualcuno sta con il patron dopo il no di Guidorin è arrivato l'allenatore giusto quindi tifosi spaccati dalle colonne del giornale di Sicilia prendono spazio trovano spazio anche le parole come già le abbiamo analizzate dei calciatori del Palermo da Sorrentino a Vasquez a Maresca che si sono schierati nella giornata di ieri a favore di Beppe Iachini anche con loro Morganella e Lazzar e dunque questo il commento del giornale di Sicilia sui calciatori che si sono schierati con Beppe Iachini questa era l'ultima analisi di oggi l'appuntamento con calcio e caffè tornerà nella giornata di lunedì sarà dunque la marcia d'avvicinamento anche per noi per la gara di domenica 22 contro la Lazio la prima di Davide Ballardini sulla panchina del Palermo appuntamento dunque a lunedì prossimo e una buona giornata a tutti e una buona giornata di Davide Ballardini e una buona giornata di Davide Ballardini e una buona giornata di Davide Ballardini e una buona giornata